Valuto le vostre squadre Pokémon Oggi valutiamo un team molto vintage, ovvero quello di Aleboss Dix su Pokémon Cristallo Typhlusion, Xatu, Mantine, Steerix, Heracross e Wabafett Sono molto colpito dalla scelta di Mantine Pokémon che nessuno prende ma che è interessantissimo da giocare Hai il tipo volante e il tipo psico che si ripetono Ma li copri molto bene e difensivamente ti trovo ben piazzato Forse ti manca qualcosa sul fronte della velocità e dell'offensività Ma secondo me ci hai visto giusto nel mettere in questo team Wabafett Che è un po' un jolly Se vuoi un parere personale cambierei Steelix con Donovan Così da aumentare un po' anche i danni che potresti fare Poi a me personalmente Heracross non fa impazzire ma mi sono un po' scervellato E qui di idee migliori secondo me non ce ne sono molte Forse Hitmonlee provere un megacorno contro il tipo psico può comunque fare comodo Anche se sei anche di tipo lotta È comunque la seconda generazione Bel team intelligente e originale Che per me è sempre un bonus 9 più Scrivimi nei commenti un tuo team da valutare e seguimi per altri contenuti Grazie a tutti